Ciao bambini! Oggi siamo qui per fare insieme delle maracas, usando e riciclando un materiale che è la plastica. Per fare queste maracas ci occorrono dei vasetti dello yogurt lavati e puliti, degli elastici, dei legumi tipo lenticchie, ceci o legumi e cereali per il minestrone. Iniziamo. Prendiamo due vasetti. Su uno mettiamo all'interno un po' di lenticchie. Sull'altro ci mettiamo dei ceci e anche dei fagiolini. Prendiamo gli altri due vasetti e appoggiamo sopra e con l'elastico fermiamo i nostri vasetti. L'alternativa sarebbe quella di incollare con la colla a caldo i bordi dei vasetti, ma vi dovete far aiutare da un adulto. Semplice, semplice. Ecco qua, realizzate due maracas e sentite il suono diverso a seconda di cosa mettete all'interno. In quale ci saranno le lenticchie? In questo ci saranno i ceci. Divertitevi a creare delle maracas mettendo all'interno i materiali più vari e ad ascoltare il suono diverso che producono. Ciao bambini!